Il no alla revoca del carcere duro imposto al boss Pep Alferi è arrivato direttamente dai magistrati della Direzione Nazionale Antimafia. Ieri mattina davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Roma è stato chiesto di respingere il reclamo presentato dalla difesa del 56enne sostenuto dall'avvocato Maurizio Scicolone. Per i magistrati antimafia revocare il regime del 41 bis significerebbe consentire ad Alferi di riallacciare i possibili rapporti con altri esponenti mafiosi locali. Nel corso della discussione sono state citate alcune recenti operazioni condotte sul territorio da mutata arma ad extrafines, segno secondo i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia che le organizzazioni criminali sarebbero ancora presenti in città. Aspetti che però la difesa di Alferi ha del tutto contestato sottolineando tra le altre cose che i blitz indicati non avrebbero alcun collegamento con il detenuto e con quelli che sono stati ritenuti esponenti a lui vicini. Secondo il legale che si è riportato alle motivazioni delle sentenze emesse sul conto di Alferi, non ci sarebbero elementi certi per sostenere che sia mai stato a capo di un terzo gruppo mafioso autonomo da Stide Cosa Nostra. Lui stesso ha sempre sostenuto di non essere un mafioso. Dopo il coinvolgimento nell'inchiesta Inferi, se danni sottoposto al regime del carcere duro per la difesa, come è stato nuovamente ribadito davanti ai giudici romani, non ci sarebbero più i presupposti per giustificarlo. È stato chiesto di accogliere il reclamo e revocare il regime del 41 bis. La decisione del Tribunale di Sorveglianza dovrebbe arrivare entro i prossimi giorni.